Continua a terrorizzare l'ex moglie anche dopo l'applicazione del braccialetto elettronico arrestato dalla polizia di Stato un 27enne macedone. All'uomo era già stato applicato il dispositivo alla caviglia dopo ripetuti episodi di molestie e minacce nei confronti dell'ex compagna. Era però riuscito a staccarlo per poi scattare una foto inviata all'ex consorte in cui lo stesso veniva ritratto ai suoi piedi a fianco di un coltello con un nuovo messaggio minatorio nei confronti della donna che ha immediatamente denunciato l'episodio. Gli agenti del commissariato di via Pecori-Giraldi assieme ai colleghi della Mobile e della Questura di Vicenza hanno avviato la procedura per ottenere dall'autorità giudiziaria un aggravamento della misura. Per lui il giudice ha disposto l'immediata carcerazione. Il 27enne è stato rintracciato all'interno della sua abitazione di Mestre, l'hanno arrestato e rinchiuso al Sampio X.